e nani il migliore in campo continua lo strapotere del conto arancio battuti anche non lo so lorenzo per te oggi un solo col subito e ancora tanta rabbia due due sì siamo stati fortunati che c'è samba inquadriamo c'è il biondo samba siamo in emergenza per chiamare ferillo preghi e chi era l'altro vedrani e vedrani quindi ho dovuto chiamare un po l'emergenza simone sorrentino addirittura figure ho fatto un sacco di volo giovanni sorrentino voglio ringraziare 4 colpi è stata una partita combattuta e non mi aspettavo che non lo so mettessero queste difficoltà c'è anche stato per giorgio siciliano ha fatto un bellissimo volo bravo giovane va bene grazie lorenzo